Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi tantissime novità anche oggi per quello che riguarda il nostro Fortnite. Oramai stiamo per aspettare che il nuovo Rift Beacon al campo da calcio sia attivi per poter vedere finalmente quello che lo sostituirà. Forse non è detto che, come vi ho fatto vedere ieri, la parte nuova senza nulla rimanga così. Potrebbe essere inserita una nuova zona molto particolare con della nebbia. È quello che si comincia a vociferare. In giro quindi potrebbe essere qualcosa di nuovo che non abbiamo mai visto in game. Nel video di oggi però parleremo ovviamente delle Champion Series che iniziano proprio oggi e andranno avanti per un bel po' di tempo. Il nuovo campionato di cui vi ho parlato in un video alla fine della season 9 con montepremi di 10 milioni di dollari. Veramente ragazzi Epic Games non bada a spese per premiare con i cash quanta più gente possibile. Ma attenzione perché potrebbe esserci il grande ritorno di Acry anarchici. Non so se molti di voi li hanno visti perché oramai è tantissimo che non ci sono più. Quindi vi farò vedere delle immagini e vi spiegherò perché sembra che Acry possa tornare. E per chiudere ragazzi una nuova collaborazione di Fortnite con McFarlane. È un nome che non può esservi nuovo produttore di action figure di fama mondiale. Nuova collaborazione per produrre qualcosa di molto molto interessante. Prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator Xiodarone. Grazie di cuore ragazzi per supportarmi quando scioppazzate di prepotenza. Mi raccomando iscrivetevi tantissimi al canale e soprattutto... Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima? Eh dai, dai raga anche ieri come sempre inondato di commenti su YouTube. Sono contentissimo che rispondiate sempre alla domandina qua sotto. Domandina di oggi veramente molto molto semplice. Su, tu sei dalla parte di Serra o di Sfondapancia? E sì ragazzi perché le skin che sono uscite ieri, delle versioni molto steampunk, del tomato e del durburger, lasciano intendere che potrebbe arrivare qualcosa di più che una semplice coppia di skin. E quindi tu da che parte stai? Io ragazzi sto dalla parte del burger, mi piace veramente tantissimo. Per quanto voglia bene al pomodoro, sfonda pancia tutta la vita. Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere molto velocemente quello di cui vi parlavo ieri. Vi ricordate i V-Bucks in premio? Ne avevano dati 200 e ci eravamo chiesti perché non ci avessero dato gli altri 1000. Vi ricordo per chi avesse scioppato l'animale artigliere che in realtà è uscito per sbaglio. Beh ragazzi stanno cominciando a rimuovere dai lockers, quindi dagli armadietti, il backpack in questione. Con tanto di scuse ci arriva il messaggio di Epic Games che dice è stato rimosso questo oggetto dal tuo armadietto e ti abbiamo ridato in poche parole i cash, ti abbiamo rimborsato i 1000 V-Bucks per averlo scioppato. Quindi 200 un paio di giorni fa, 1000 entro poche ore, tanta tanta roba per questi 1200 V-Bucks. E andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi. Qua è un po' importante ragazzi, sta veramente alzandosi un polverone non indifferente intorno all'argomento brutto. Abbiamo un paio di righe scritte da uno dei più famosi streamer a livello mondiale con tanto di commenti da parte di altri streamer a livello mondiale. Parliamo di Meet, parliamo di Dakotas, parliamo di Ninja, parliamo di Kimstar, parliamo proprio di gente che insieme fanno milioni e milioni di utenza. In poche parole, lui dice in questa lettera non è possibile che un gioco come Fortnite, dove comunque ci dovrebbe essere un bilanciamento, si sta cercando di fare il competitive, si cerca di mantenere una certa linea, abbia di nuovo, cioè abbia tuttora l'introduzione del brutto, nonostante ci siano vere e proprie petizioni online, ed è veramente assurda questa cosa ragazzi, petizioni con l'hashtag che già vi avevo proposto sul mio Instagram, remove the mecha ragazzi, anche se in realtà sembra che non sia sufficiente, e qua mi associo anche io, il nerf che Epic Games ha fatto. È stato talmente virale questo post che andiamo direttamente nella sezione notizie di Epic Games, dove si parla proprio del brutto, e loro dicono, non vi sto ovviamente a leggere tutto, ma loro dicono abbiamo letto, ci è arrivato alle orecchie la vostra petizione con l'hashtag remove the mecha about il brutto, and decide this will be a good opportunity to explain la nostra filosofia. loro dicono, non vi rimuoviamo il brutto, ma vogliamo spiegarvi perché lo stiamo tenendo. E in questo modo loro dicono, la missione di Fortnite è quello di dare ai player il maggior numero di skill, di farle insegnare ai player, e nello stesso tempo di dare divertimento. in poche parole loro dicono, a noi piace che questo brutto possa essere utilizzato da chi ha meno skill per poter killare la gente, è un discorso che a me sinceramente fa ridere il culo, perché non ha molto senso avere una cosa overpower, lo sappiamo, 12 razzi, un fucile a pompa, è una velocità di movimento che è veramente fuori da ogni qualsivoglia concetto di realtà sul battle royale. Il problema ragazzi è che abbiamo anche una tabella, e come vediamo questa è la percentuale di eliminazioni del brutto in ogni partita, sebbene nella modalità arena e nella modalità trio, sempre di arena, non siano più tante le kill con il brutto, guardate in solo, in duo, in squad e in ressa a squadre quanto sono di impatto. Su 100 giocatori 6 kill sono fatte con il brutto ed è una media, il che vuol dire che ovviamente possono essercene molte di più. Quindi ragazzi noi continuiamo a sperare che Fortnite, che Epic Games ascolti ancora di più le nostre lamentele e che prima del termine della season 10 rimuovano questo benedetto brutto. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento e parliamo della collaborazione. Abbiamo il nostro Donato Mostarda che vi dice, surprise, sorpresa, stiamo lavorando con Todd McFarlane della McFarlane Toys da un po' di mesi per rilasciare questa bellissima action figure dal momento in cui ci è venuta in mente e di inserirla, che è stata inserita su Fortnite. L'action figure in questione ragazzi non è altro che la skin dello starter pack di questa season, quindi quella che abbiamo acquistato tutti ieri o l'altro ieri ed è molto molto carina perché sicuramente McFarlane è uno leader della creazione di action figure, i dettagli sono veramente altissimi, la potete trovare probabilmente già su Amazon in pre-order per chi la volesse prendere la prima action figure ufficiale di Fortnite. E chiudiamo il video di oggi ragazzi con la Champions Series, non riesco a parlarvi di Acry, cos'è la Champions Series? Sono i campionati che iniziano oggi 17 agosto disponibili per tutte le persone che hanno preso punti in arena perché dovrebbero esserci quelli della Lega Open, quelli della Lega Contender e quelli della Lega Champion. In poche parole ragazzi il primo round oggi 17 agosto che farà sì che i primi 2000 qualificati andranno al round numero 2 sempre di oggi pomeriggio, probabilmente intorno alle 18 e da lì si estrapoleranno i mille migliori se non ricordo male che andranno invece alle finali di domenica. Questa cosa succederà fino al 22 settembre quindi un po' la modalità come l'arena delle scorse season sappiamo ragazzi che prenderemo anche dei points nei campionati, il primo prenderà 500 punti, 450 al secondo, 400 il terzo, 375 e così via in modo da stilare una classifica. Abbiamo la fase sia singolo che in terzetti, ovviamente il primo premio per le singolo è di 96.000 dollari quindi 100.000 più o meno se li porta via il primo, 57.000 al secondo, dal terzo al quarto 21.000 a morale della favola dal 31esimo al 250esimo 960 dollari. Tutto il regolamento delle Champions Series se lo trovate ovviamente nella sezione news di Fortnite io non vi porto via altro tempo, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alle 8 in live, ciao!